Io sono Maurizio Testa, sono il presidente della società Benefit Artes e coordinatore nazionale del progetto Artes. Per chi non sapesse che cosa è una società Benefit, in Italia nel 2015 è stata fatta una legge che riprende la stessa legge, praticamente una coppia a carbone della legge americana sulle B Corp, sulle Benefit Corporation, che sarebbero le società Benefit americane, e che hanno preso il nome di questo movimento mondiale delle B Corp, migliaia e migliaia di aziende che nello statuto, quindi la legge consente di inserire nello statuto sia una valenza profit, quindi non è terzo settore, non è associazionismo, ma anche una valenza di costruzione di valore sociale, perché la legge prevede che lo scopo di un'impresa sia massimizzare il profitto. Detta così, è nuda e cruda, la società Benefit vuole estendere, dichiarandolo, che non è solo profitto, ma è valore, valore per le persone, quindi valore sociale, di cui il profitto è una componente, chiaramente, perché il profitto porta economia, benessere, attività, lavoro e tutto quello che viene di conseguenza. Ecco, diciamo che tutto questo è un po' scoppiato anche a valle degli anni 2008-2009, in cui tanti hanno delocalizzato, spostato in Cina, spostato in Cecchia, in Slovacchia, eccetera, e depauperando il territorio, per cui muoiono le aziende, sì, forse l'imprenditore ha più guadagni, ma poi non c'è più nessuno che compri, perché il territorio si snatura, eccetera. E quindi ecco che è nato, nel caso nostro, diciamo, il valore sociale nel settore del turismo. Quindi il nostro obiettivo, accenno a questo perché penso che sia giusto e anche farlo conoscere, che ancora non ci conosce, è creare reti, creare collaborazioni, creare condivisione. Ci vuole anche della gratuità, ci vuole un po' di idealità, idealità che non è essere sognatori, ma come dire, cercare quelle energie che anche se avessi i soldi non si... Cioè, alcune cose non si muovono per i soldi, si muovono per il cuore. Ecco, quindi l'Italia che tutti gli stranieri desiderano vivere, è un'Italia del cuore, della relazione. E da qui è nato ARTES, che vuol dire animazione, relazione, turismo esperienziale, un acronimo. E il mio compito adesso è dire come mai siamo nati e come mai è nata questa professione dell'operatore di turismo esperienziale e che beneficio, che utilità ne viene di conseguenza. Quindi, in questa quarantina di minuti, compatibilmente con la mia capacità di manovrare il computer, navighiamo su questi concetti. Chi ci conosce da tempo sentirà cose, diciamo, alcune cose già sentite, forse qualcosa di nuovo. Chi non ci conosce sentirà la nostra visione del mercato, del turismo. Allora, qui facciamo un discorso un po' generale, prima di arrivare al punto proprio specifico. Allora, cominciamo a considerare che in questi prossimi tre anni il turismo ripartirà lentamente e il mercato più piccolo porterà a competizione più agguerrita. Quindi cominciamo a dipingere questo scenario che è contingente. Abbiamo avuto crescite incredibili del turismo fino al 2019. La realtà è che per due o tre anni, diciamo, ora che arriviamo come era prima, come era prima come volumi, ma poi bisogna vedere i volumi, quali sono i contenuti. Allora. Il tema che poniamo sul piatto è che è fondamentale distinguersi per non morire, perché se il mercato è più piccolo ci insegnano che o riduciamo i prezzi o innoviamo. Quindi distinguersi vuol dire innovarsi. Quindi diciamo che il turismo esperienziale, che è un trend ormai in tutto il mondo, già lanciato, già acquisito da una ventina d'anni in Italia, diciamo siamo partiti con grande ritardo. Come sempre poi però recuperiamo, in questi ultimi due o tre anni la cosa è montata. Quando noi siamo nati, noi abbiamo cominciato a esistere, non eravamo ancora azienda, ma nel 2014, di turismo esperienziale in Italia non ne parlava nessuno, proprio zero. Forse siamo stati tra i primi che hanno cominciato a battere la gran cassa, perché abbiamo visto un grande potenziale. Allora, diciamo che oggi se tu vuoi conquistare del mercato, devi innovare. Questo vale sempre. La Nuova Zelanda, che è un mercato turistico rampante, in realtà avrà un centesimo delle risorse che ha l'Italia, ma il turismo più innovativo la trovi in Nuova Zelanda. Alcune cose che noi anche proponiamo, diciamo cose simili, le abbiamo viste in Nuova Zelanda. Cioè, chi ha meno si deve inventare qualcosa in più. E qui nasce il grande problema, che l'Italia, siccome è una nazione unica al mondo, è molto desiderata, abbiamo detto in un altro webinar, che è la nazione più desiderata al mondo, però non è la più acquistata. Siamo al sesto posto nel 2019, siamo stati superati dalla Gran Bretagna, e che è tutto dire. Bellissima la Gran Bretagna, ma non penso che possa competere con l'Italia. Cioè, come valore. Ecco, allora l'Italia probabilmente è stata sempre un po' seduta sugli allori, tanto si vende da sola. Ecco, si vende da sola vuol dire che non si estrae il petrolio, non si raffina il petrolio, non si distribuisce il petrolio. Bisogna fare delle attività di packaging, che non è il pacchetto turistico, ma consolidare il turismo da un punto di vista dei nuovi trend, quindi il turismo esperienziale, che comincia dal territorio. Ecco, quindi competenze, eccetera, e cami, destination management, marketing del territorio. Ma, ecco, perché si sta spostando certamente la curva da dove andremo, qui vediamo un overcrowding sul Colosseo, a che cosa vivremo. Quindi, oltre al Colosseo, le spiagge, le camere da letto, che certamente ci sono ancora, perché il Colosseo lo vedranno, continuerà a essere visto tantissimo, però dobbiamo riposizionarci su emozioni, relazioni, tematismi. Ecco, tutti sognano di diventare cittadini temporane dell'Italia, tutti vorrebbero essere italiani. Ci sono fior fior di associazioni, non di oriundi, ma di amanti dell'Italia in tutto il mondo. Quindi l'Italia è centrale nel mondo, però non ha quel... c'è bisogno di riposizionare, offrendo quello che è proprio specifico, che non è solamente Michelangelo, ovviamente, e Leonardo da Dici anche, ma sono proprio gli italiani, in senso olistico. Quindi il turismo esperienziale copre tutti gli aspetti del territorio e chiaramente gli italiani sono i protagonisti di questo. Ecco, il peso delle activities. Se una volta le activities erano solamente ancillarie, quindi fatto cento la torta del turismo, diciamo della spesa turistica, di incoming, 10% erano le activities, le escursioni, le attività, il museo, sempre di più stanno diventando la motivazione del viaggio. Quindi fare differenza sulle activities, quindi benissimo avere un bel albergo, benissimo avere un ottimo agriturismo, benissimo avere un bel Colosseo, ma dobbiamo anche avere dell'intrattenimento, delle iniziative che siano attrazioni, in particolare poi nei territori che hanno poche attrazioni. Cioè in Colosseo ci sono la Roma, ma ci sono i borghi che sono meravigliosi, ma non hanno l'attrazione artistica, hanno l'attrazione che sono speciali in quanto borghi, in quanto persone del borgo. No, sono appena reduci da una trasmissione dove si è parlato di decimo manno. Ecco allora, quindi turismo esperienziale, che è il tema di questo summit, la nostra definizione, che pensiamo ormai sia abbastanza condivisa, non è tanto l'activity, che è quella che c'è un po' da sempre, ma è quella, diciamo, esperienza dei turisti che mettono le mani in pasta, quindi sono attivi e non passivi, seguendo le passioni, uno è appassionato di anoturismo, l'altro è appassionato di biodiversità, quell'altro è appassionato di altre cose, insieme ai locati, quindi un incontro, una relazione. Ecco, no, queste curve probabilmente sono state già viste, diciamo, abbiamo delle percentuali che è sempre difficile da misurare, perché si misurano più sui sondaggi che non sul venduto. Diciamo che da una parte il turismo di massa, le solite cose, quindi Venezia, Firenze, Roma, il viaggiatore solito, oppure il solito viaggiatore sotto l'ombrellone, il turismo esperienziale, allora se da una parte il turismo di massa diminuisce, come domanda, e dall'altra parte la domanda mondiale, c'è un cambiamento nel marketing, perché da una parte abbiamo dei prodotti commodity, ecco, chi si interessa di voi di marketing mi segue, e dall'altra parte invece abbiamo prodotti di nicchia. Ora, il problema è che la sommatoria dei prodotti è tanta, ma la segmentazione è tantissima, per cui c'è tutto un problema anche di confezionamento di prodotto, perché confezionare prodotti di nicchia costa molto. No, qui vediamo la segmentazione, un cliente fai da te, che vuole anche spendere poco, un cliente intermediato, un cliente fai da te sull'OTA, chiaramente, un intermediato al consulente, tu l'operato, l'agenzia, che comunque rimane come uno gioco importante di un turismo medio o medio alto, è il turismo luxury, che invece vuole il viaggio assolutamente fatto su misura, che costa tantissimo, costa più preparare il viaggio che non il viaggio in sé. Ecco, allora, da una parte abbiamo sulle OTA acquisti le singole attività, la lezione di cucina, la degustazione, spero che ormai in questi anni avete capito tutti che queste singole attività diventano tutte uguali. è vero che poi le referenze mi dicono che il cuoco era bravo o che la signora era simpatica, però alla fine la lezione di cucina sono cose, è un bazar di cose come dire, che sono tutte più o meno simili. Vengono i bazar, vanno bene per il cliente che fai da te. Il cliente intermediato ce lo mandano in Francia, ce lo mandano in Spagna, perché dicono voi fate solamente attività poco improvvisate, poco sicure. ecco, allora, sotto abbiamo il self-service, sopra abbiamo la consulenza, sotto il prodotto è standard e sopra è su misura, sotto c'è il bottone compra adesso, book now, e sopra è su richiesta. Chiaramente poi ci sono tutte le sfumature. Sotto c'è improvvisazione, improvvisazione non è una cosa negativa, gli orchestrini e jazz si improvvisano. Ecco, sopra invece diciamo che c'è, serve, viene richiesta dalla filiera la professionalità. e qua nasce il grande problema che appunto noi su questo mercato in Italia siamo un po' deboli perché sul turismo esperienziale che ha tutta una sua base teorica su cui si può costruire professionalità, diciamo, sono mancati in questi anni di fatto le scuole ed è qua che ci siamo inseriti noi di Artesse. Quindi cosa abbiamo creato? Abbiamo creato un sistema che mette in rilievo più di altre cose la relazione che crea l'emozione che crea la memorabilità da cui la fidelizzazione ritorna e passa parola. Questo per quale scopo? Per attrarre un cliente straniero di più alto livello. Uno dice sì ma adesso ci sono italiani. Ok, come vedrete mi pare in un altro webinar parleremo anche di weekend di prossimità proposte per italiani. È chiaro che nel contingente dobbiamo anche creare dei prodotti che però devono essere malleabili per adattarsi a dei target diversi. Però se io fossi se l'Italia fosse un'azienda e io fossi l'amministratore delegato io spero che non ci sia che il prodotto non venga consumato dai dipendenti dell'azienda ma che venga consumato consumato scusate che venga fruito dai clienti esterni così ho degli incassi che non arrivano dall'esterno. Quindi se la Spagna fa 68 miliardi di euro nel 2019 di incoming e l'Italia ne fa 44 se ne vado errato miliardi di euro di incoming nel 2019 ballano 24 miliardi. La Spagna ha un PIL che è la metà dell'Italia voi capite che facessimo anche solo l'incoming straniero faremmo lavorare 3 milioni di persone in più. Ok? Per cui questi discorsi non sono un po' gli anni che li facciamo vedo che un po' alla volta c'è tanta pazienza ma le cose si stanno muovendo e cominciamo ad essere capiti. Allora per attrarre un cliente straniero di più alto livello che oggi ripeto viene mandato in altre nazioni in particolare Spagna Francia Francia e Portogallo per quanto riguarda il sud Europa però ho sentito gente che va in Thailandia a pulire gli elefanti di Nuova Zelanda ne fanno di tutto di più per cui il fenomeno è mondiale però l'Europa ha il 51% dei viaggiatori diciamo cerchiamo di portarci in Italia la concorrenza non è tra Milano e Palermo ma è tra Italia e Germania Italia e Inghilterra Italia Parigi eccetera ecco quindi ormai il viaggio di un cinese è Europa non è Italia uno fa un viaggio in Europa poi andrà anche in Italia andrà anche allora noi dobbiamo cercare di dare il motivo di tornare in Italia perché in Italia vedo questa enorme quantità di situazioni se sono ben contenzionate possiamo farlo tornare allora dobbiamo imparare a creare un'offerta distintiva è chiaro che io sto parlando distintiva non dello stereotipo Venezia Firenze ma di creare confezionare prodotti con la materia prima che estraiamo dal territorio mentre noi diciamo ancora oggi vendiamo materia prima vendiamo il Colosseo vendiamo la Venezia che è una materia prima ok prodotti innovativi professionali con marchi di qualità che rassicurino facendo un esempio con l'albergo uno compra la stanza in un albergo dentro la signora Giovanni catena best western e l'americano è tranquillo dice ok vuol dire che indietro c'è processi c'è qualità c'è sicurezza e sono tranquillo cioè la clientela di valore deve essere rassicurata non da prodotti tutti uguali ma da garanzia di industria del turismo specializzazione professionalità che nell'alberghiero c'è direi ma in questa roba qui ce l'abbiamo con le guide con gli accompagnatori ma quando andiamo sull'esperienziale ripeto l'artigiano che vuole fare il turismo il vinaiolo la cantina magari fanno bene ma spesso si improvvisano quindi dobbiamo creare siccome la segmentazione è elevatissima palinsesti flessibili facilmente adattabili ai diversi target quindi semilavorati in modo che non devono reinventare la ruota tutte le volte ecco e poi il territorio deve essere integrato voi facendo un esempio che non è turismo esperienziale ma che invito tutti a fare perché c'è un'esperienza di viaggio molto bella i castelli della Loiera sono una destinazione lunga 350 km per cui anche il concetto di destinazione va un po' rivisto non è solamente il paese la regione è un prodotto destinazione ok ma deve essere messo a sistema quindi se voi fate il castello della Loiera c'è tutto un insieme di servizi che vi sono garantiti in tutto il percorso ok quindi dobbiamo appunto integrare il territorio se no avrete una scalpa o una ciabatta cioè chi ospita deve essere consapevole di organizzare un'accoglienza diffusa e una sensibilità all'ospite quindi capite che la sfida è molto alta ecco con tutta questa sfida davanti è nato il progetto Artes che dove abbiamo creato appunto un disciplinare che si chiama Story Living Experience Storie da vivere insieme che definisce come costruire e erogare un prodotto esperienziale poi accenderò un attimo velocemente così capite ne consegue una professione quindi l'operatore di turismo esperienziale è colui che sa creare organizzare erogare un prodotto secondo disciplinare Story Living Experience con queste caratteristiche e prima con questa caratteristica più avere un tour operato che commercializza un prodotto fatto in questo modo vi consente di superare l'esame per accedere ad Assotes che è un'associazione degli operatori per il turismo esperienziale accreditata dal Ministero dello Sviluppo Economico e poi più recentemente ahimè poco prima del covid abbiamo creato un club di prodotto ovvero una integrazione di soggetti eterogenei quindi qui troviamo le guide gli accompagnatori gli alberghi gli agriturismi soggetti titolari di un prodotto Story Living realizzato da un da un professionista di Assotes quindi i prodotti che voi trovate nel catalogo Joy Place sono tutti fatti dai professionisti magari sono stati acquistati commissionati da un albergo ok qui si apre anche il tema della progettazione per l'oppe quindi sto già anticipando allora a questo punto parliamo proprio della professione dell'operatore di turismo esperienziale chi è? è un professionista quindi non è un azienda non è un tour operetto è un professionista consulente poi certo che può essere come un direttore tecnico di agenzia il direttore tecnico è un freelance poi lavora c'è la sua agenzia però prima di tutto il direttore tecnico in questo caso l'opera dote cosiddetto è un professionista che si specializza nel turismo esperienziale quindi la guida si specializza nel turismo esperienziale l'accompagna un cuoco tutti si possono specializzare in turismo esperienziale sì però spiego bene cosa quindi lui sa creare organizzare erogare il prodotto attorno alle proprie passioni fino alla complessità dello story living quali tre requisiti per diventare un buon ote allora qui c'è una persona che gli piace stare insieme con gli altri non può essere un introverso che non vuol dire che deve fare il matto deve fare chissà che cosa è una persona che con naturalezza ha empatia accoglienza sa sorridere sa mettere insieme le persone e ha delle passioni almeno una passione su cui costruisce il suo prodotto di cui deve essere esperto con dei titoli e attorno a cui appunto costruisce il prodotto turistico ora chi potrebbe diventare ote la guida turistica la guida naturalistica ciclistica accompagnato i sorvegliei cuochi i contadini oserei dire i clochard lo dico è una battuta al momento non abbiamo nessun clochard che è diventato un ote però ricordo di aver visto un prodotto a San Francisco dove un clochard un homeless aveva fatto un prodotto esperienziale che accompagnava che accompagna i turisti a San Francisco a vedere come vivono gli homeless che a San Francisco per vari motivi sono tantissimi sono un terribile genus loci ma reale che c'è a San Francisco allora vorrei qui dire una cosa spero di dirla con la chiarezza possibile siccome questa è una professionalità gestita da un'associazione che è stata accreditata dal ministero la legge 4 2013 esplicitamente dice che chi fa questo mestiere non può invadere il mestiere di altri quindi se io faccio tutto il percorso di ote perché sono esperto di ceramica e poi accompagno la gente e parlo di monumenti io faccio un abusivo non lo posso fare diventare un abusivo come il 99% dei local friend che ci troviamo che di fatto vanno a invadere allora mi porterò dietro prenderò nel mio prodotto una guida cioè la guida sarà uno dei fornitori perché i prodotti fatti secondo questo disciplinare sono dei palinsesti cioè non c'è un'attività c'è un cocktail di attività sono allestimenti che hanno una certa complessità quindi non invaderò mai cioè a meno che lo faccio in modo doloso in quel punto vengo radiato da registro quindi se io voglio inserire nella mia avventura che ne so io sono esperto di ceramica e voglio inserire che c'è anche la guida mi devo attrezzare e portare dentro una guida turistica è chiaro che io sarò esperto della ceramica faremo un laboratorio che magari sarà una delle cose che vengono fatte spero che questo aiuti a capire perché spesso c'è confusione quindi tutelate le guide tutelate le guide ambientali eccetera eccetera i prerequisiti sono un diploma di scuola superiore o cultura di base equivalente abbiamo detto prima evidenti capacità relazionali lui dice ma se io sono busone posso farlo adesso non è che uno ti dice no non puoi iscriverti però di sicuro non funzioni cioè tu devi avere questa capacità relazionale la devi avere se no rischi che molti no ma io voglio progettare per terzi ok però se tu non hai dentro di te questa molla fai anche fatica a progettare per terzi allora diventano messe in scena ma non è più un vero turismo esperienziale se ci sono già quelli che fanno turismo teatrale o altre cose ma sono messe in scena ecco diciamo che story living è una formula che al 70% è pervasiva per qualsiasi prodotto diciamo esperienziale poi ha un 30% che alza l'asticella e come vedremo poi diventa una piccola avventura ok per cui quello che Lotte sa fare è probabilmente la cosa più sofisticata che oggi si può trovare sul mercato poi non è detto che Lotte debba per forza sempre fare quella roba lì lui può fare anche cose molto più semplici la regola è che se uno ha imparato a fare una cosa complessa a 100 è più tranquillamente mi fa 90 80 50 30 20 ma se uno sa fare 20 non può fare 100 capite quindi se io devo fare un prodotto eclatante 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 dal punto di vista relazione emozione ok contesto situazione capace di attirare un turista e coinvolgere il suo consulente e dirgli no non mandalo a Parigi mandalo a Tremona che lì c'è un'attività meravigliosa ti facciamo fare ok ecco deve avere un'esperienza pregressa nella conduzione o animazioni di gruppi di qualsiasi tipo e poi ci vuole l'evidenza che lui è esperto di almeno una passione ma non perché ma sì io sono appassionato di cucina ahimè anche io sono appassionato di cucina ma io non sono un esperto di cucina capite per essere esperti ci vuole un titolo o c'è un diploma o una specializzazione o una reputazione uno per esempio che so ha un blog dove ha 10.000 che lo seguono e si parla di cucina e lui ha una reputazione però se lui è uno perché mi piace fare questa cosa non è sufficiente ognuno di noi ha qualche cosa di cui è appassionato però devi essere anche esperto perché il turista che sceglie il tuo prodotto che vuole condividere quella passione può darsi che la sa più di te per cui non può capitare che tu sei impreparato ok lingue almeno l'inglese è obbligatorio da un punto di vista diciamo normativo non è l'obbligo però diciamo se uno poi vuole fare veramente questo mestiere come specializzazione beh se è una guida per legge sa almeno due lingue le sa per cui diciamo almeno l'inglese saperlo ecco Lotta cosa fa allora da una parte lui mette insieme il territorio e dall'altra parte si rivolge al mercato se eroga il prodotto ok se invece progetta solo allora guarda solo il territorio ma se guarda solo il territorio c'è il rischio che progetta senza avere in mente il cliente per cui si crea un mismatch tra cliente e mercato allora il territorio i fornitori o attori noi chiamiamo attori non perché fare la commedia ma perché ci sembra che il fornitore è molto freddo invece l'attore è qualche cosa di più diciamo più coinvolgente ecco i partner le istituzioni pubbliche private ecco lui deve mettere insieme il territorio ogni prodotto ha almeno tre quattro fornitori scusate che la regia mi dà allora travel blog può certamente collaborare e poi farò degli esempi poi vedo un'altra domanda un tour operetto può comunque dedicare un ramo della sua attività al turismo esperienziale io temo che oggi un tour operetto con gradazioni diverse ma non si può evitare di avere il turismo esperienziale è una domanda pervasiva è una domanda che nasce da un cambiamento sociologico poi il covid aumenterà questo fenomeno quindi il turista mordi e fuggi diciamo noi speriamo un po' alla volta di lavorare per tirare dentro clienti di questo tipo perché i clienti mordi e fuggi sono tanti poco margine sacco di volumi ti distruggono le città ok tornando al concetto di Ote allora l'Ote non so se mi consentite di fare un esempio che magari è ambizioso è un po' come l'albero su una montagna su una collina l'albero tiene insieme e la collina non smotta la montagna non viene giù l'albero radica il terreno l'Ote è un facilitatore di relazioni perché mette insieme crea questi palinsesti dove ci sono appunto 3-4 fornitori e si adopera perché anche questo prodotto poi venga diffuso e venga promosso dal territorio perché può essere venduto dai tour operator locali ma anche dagli alberghi anche dall'extalberghiero eccetera per cui può essere venduto quando il cliente è arrivato o può essere venduto su prenotazione quando il cliente sceglie la destinazione se lo vendo quando il cliente è già arrivato per esempio adesso stiamo lavorando con un gruppo nelle Marche stiamo facendo le mulattiere di Acqua Santa percorsi meravigliosi con il travertino eccetera è chiaro che bisogna porsi il problema dei canali di vendita per cui bisognerà che qualcuno qui l'Ote si veda di andare di creare una rete di collaborazioni per fare la promozione nelle spiagge l'unico giorno che la gente fa l'escursione andiamo a fare l'avventura sulle mulattiere di Acqua Santa per esempio è chiaro che verranno quelli che gli interessa quell'argomento quindi l'Ote come facilitatore di relazioni nel territorio collaborazioni come gli alberi dall'altra parte lui appunto si rivolge al mercato allora se lui è se l'Ote è dentro un tour operetto va dal turista direttamente oppure passa attraverso una segliera oppure passa attraverso il club di prodotto per quelli che vogliono aderire a Joint Place che dà a chi non ce l'ha anche la direzione tecnica per cui consente anche di fare un franchising su questo adesso diciamo non è proprio l'obiettivo della parlata ma magari se andate sui siti trovate dettagli così si spiega meglio cioè una guida turistica ha già dei clienti ma non può vendere un pacchetto perché un prodotto di questo tipo è un insieme di servizi di solito per cui uno non lo può vendere da solo allora però sui clienti che ha si può appoggiare e quindi operare come se lui fosse un tour operator sfruttando la direzione tecnica del club di prodotto spero di essere riuscito a spiegare questo passaggio anche l'albergo di per sé l'albergo alcune cose le può vendere ma altre non le può vendere però se l'albergo vuole fare con sales management e quindi vendere ancillaries e posizionarsi sugli ancillaries può darsi che debba appoggiarsi al tour operator e quindi anche l'albergo anche l'agriturismo anche il property può appoggiarsi al club di prodotto e quindi poter fare sia la vendita di questo tipo di prodotto ma con un minimo di formazione di cui parleremo tra l'altro fra un paio di giorni anche diventare consulente di viaggio in cammin per cui anche fare i pacchetti i più giorni di viaggio proprio si apre un'opportunità quindi lotte come inizio a dire è una competenza base che ci può portare su diversi piani come ecco velocemente vi accenno al disciplinare story living experience per dare un'idea almeno di cosa si tratta disciplinare lo dice la parola crea una disciplina allora quando tu parli con i mercati stranieri processi disciplina che non vuol dire standard vuol dire che il prodotto ha uno scheletro ha un binario ha un processo e questo rassicura perché crea qualità per sua natura i processi creano qualità l'alternativa al processo è come si dice è appunto improvvisare cioè che ognuno fa buon senso e che magari va anche bene ma magari però non ha la professionalità per cautelarsi sulle normative su certi aspetti appunto di abuso che succedono spesso allora chiedo scusa perché questo mi sono accorto adesso che è una versione un po' vecchia in realtà i fogli di lavoro sono dieci fogli di lavoro perché abbiamo aggiunto uno per il booking che adesso qui non fosse mai scritto censiamo le passioni è chiaro che adesso ragazzi dato giù molto sintetico poi chi fa i nostri corsi si entra in quattro giorni si va a vedere ecco poi abbiamo un altro foglio che illustra quattro ingredienti questo ve lo faccio vedere le sei caratteristiche che deve avere un prodotto esperienziale di alta qualità gli itinerari qui diciamo non c'è niente di nuovo sugli itinerari gli attori quindi chi sono i miei fornitori la storia ecco qua c'è la novità allora uno due tre quattro si può fare cioè comunque vale senza la storia e poi abbiamo lo storyboard e la dinamica della relazione allora uno due tre quattro dinamica della relazione quindi se tolgo la storia lo story living comunque introdotto ha bisogno di un binario quindi questo lo dico perché lo ripeto non è che noi dobbiamo morire di fare story living ma lo story living è una formula innovativa nuova non esisteva è un nuovo genere di trattenimento che porta una metodologia nel turismo se uno impara quella roba lì può fare anche la tipica lezione di cucina la può fare in un mondo diverso tanto quanto uno chef stellato che sa fare piatti incredibili poi ti fa l'omelette ma se voi avete mai visto Claudio Cracco a fare l'omelette io l'ho visto la fa da chef per cui anche la cosa più semplice viene fatta con professionalità da chef quindi noi creiamo gli chef del turismo esperienziale professionale poi c'è tutto un tema di gestione del prezzo in modo che uno faccia un prodotto e sappia già valutare un po' diciamo rispetto dei benchmark che noi gli diamo per gli italiani deve costare così dieci persone ma lo raggiungo cioè un simulatore di prezzo in modo che sia in grado di valutare e confezionare e adattare il prodotto le varie situazioni i vari canali di vendita che poi il prodotto ripeto è un semilavorato che posso congelare solo quando vado nel canale di vendita lo voglio vendere sulle OTA si può sconsiglio perché viene devalorizzato sulle OTA cioè le OTA te lo banalizzano al bazar ecco però magari ho invece un sito particolare con cose luxuri o altro livello allora lì si lo posso mettere ecco c'è tutto un aspetto di gestione normativa e dei rischi una volta ricordo una signora che venne e disse valeva il corso solamente per imparare questa roba perché una marea di cose chi va sul buon senso non si può neanche il problema e mette a rischio che è il motivo per cui poi non ce li mandano in Italia perché dicono che siamo un po' improvvisati ecco e poi la scheda web e la scheda del catalogo allora dallo storytelling allo storyline velocemente vi faccio capire qual è il passaggio che in sé è abbastanza semplice anche abbastanza logico poi farlo è abbastanza difficile quindi questo è un prodotto difficile da fare richiede un sacco di lavoro e un sacco di attenzione tanti dettagli creano un prodotto memorabile unico e ripetibile che quindi non è più ecco quindi noi spostiamo da itinerario vieni che ti porto qui 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 e qui no ti faccio vivere una storia con i locali che sia memorabile unica e ripetibile dove le parole sono piene di lavoro cioè dietro memorabile c'è tutto un lavoro dietro unico c'è tutto un lavoro dietro irripetibile c'è un sacco di lavoro che appunto insegniamo nel corso vabbè qui c'è adesso non so perché no scusate questo è un rifuso allora diciamo che le storie sono costruite con un metodo che adesso mi è entrata questa cosa qui che è un po' complicata da spiegare questo metodo che qui in nove blocchi ha tre mila anni di storia tutti i romanzi tutti i film del mondo sono fatti in questo modo ok quindi noi ci appoggiamo a un metodo antico per creare l'animazione che deve essere molto leggera non una messa in scena molto leggera ecco dopo è scontato che chi di voi fosse interessato va sul sito di Joy in Place e vede un sacco di esempi i film e così capisce capisce che sono come dire il blog tour di Giovanna raccontiamo una storia trauma che è il problema che spinge l'azione il comune di Cividale delle Friuli incarica Giovanna di mettere insieme un gruppo di blogger per promuovere la città di Cividale perché il problema è che c'è poco turismo Cividale è tutto vero solo che la storia diciamo è una leggerissima fiction nel senso che all'inizio il comune non aveva dato nessun incarico a Giovanna quindi la storia era inventata però la realtà che poi il comune ha adottato questo prodotto che lo trovate appunto sulla lista di Joy in Place e lo propone come se l'avesse inventato lui ma all'inizio non era il comune cioè quello che era la leggera fiction è diventata realtà quindi questo è un po' lo storiedi di fare qualche cosa cucito su misura su Giovanna che è una guida turistica che porta un gruppo di turisti che giocano a fare i blogger ora capite che tra turista e blogger la distanza è veramente minimale minimale e gli fa assaggiare tutta la cittadina di Cividale che è una bomboniera e che è vero che fa poco turismo e quindi il turista è protagonista di fare il blogger la Giovanna è l'aiutante l'impresa è promuovere Cividale il committente è il comune adesso l'avversario è l'assessore del turismo che quando torniamo in comune in sala consigliare vuole vedere un po' il nostro lavoro che andrà sicuramente bene e faremo poi un sacco di festa ci darà la cittadinanza onoraria ci darà un diploma e se non mi ricordo cosa gli dà e tanto noi abbiamo visto il pasticcere siamo andati a toccare tutte le cose e questo è il prodotto diciamo più semplice ma molto efficace per motivi anche che sentiamo i racconti dei cittadini adesso solo un accenno andiamo nel negozio più vecchio della città dove i due titolari che sono due ebrei ci raccontano una storia terribile che io quando abbiamo fatto il test la pelle d'oca ancora quando ne parlo raccontano della zia che è stata presa da una rete da una retata dei nazisti che l'ha portata poi a Auschwitz e per una sliding door la mamma non è stata presa adesso lo sto a raccontare i dettagli se non diventa lunga sentire questo racconto che di per sé non ha nulla a che vedere con Cividale ha a che vedere con la storia di persone di Cividale quindi si entra in una sfera molto più intima ecco queste cose creano forte emozione e forte memoria quasi ho dimenticato l'aspetto del tempietto Longobardo che siamo anche andati perché dobbiamo fare la promozione del tempietto che è una cosa tipicamente monumentale architettonica artistica questa cosa dei due ebrei ci ha colpito tantissimo io poi ho saputo che tutti quelli che vanno sono una delle cose che colpisce più di tutto per cui vedete che l'esperienza esce dai cliché tipicamente turistici ecco in questo senso allora crea ecco lo storyboard vedete questa dinamica questi sette fasi contatto familiarità immersione identificazione ecco c'è tutto un lavoro dietro quindi se la memoria viene dall'emozione e se l'emozione viene anche dalla relazione io devo costruire uno storyboard e associarlo a questi momenti quindi non è cioè l'emozione va governata ecco adesso sono titoli che vi do ma per dirvi che non c'è nulla allora puoi dire non è non c'è nessun copione quindi non pensare che c'è un copione però c'è uno storyboard c'è un binario ok per cui ho progettato il prodotto il prodotto non è materia prima ma è un confezionamento di prodotto allora parliamo negli ultimi 5-10 minuti vediamo un po' il tassi abbiamo ancora 5 minuti gli sbocchi allora uno impara a fare questa cosa e promuove il suo prodotto lo promuove o nel club di prodotto o con il suo tour operator o con il suo albergo cioè c'è qualcuno lo propone già ai suoi clienti come prima cosa e poi cerca anche ai clienti di immuovili però diciamo comincia a collaborare con il destination con l'incoming manager per cui un operatore di turismo esperienziale potrebbe anche diventare l'incoming manager di sicuro ci collabora quindi se io ho l'info point collaboro con l'info point magari per creare dei progetti di questo tipo potrei citare anche qui degli esempi nel tempo esempi per cui si creano degli eventi quindi il prodotto che è di tipo escursionistico diciamo però può diventare anche evento con la proloco cioè io posso formatarlo in diversi modi posso fare progetti integrati ed esperienziali di destinazione quindi posso lavorare con le dmo con i gal con la pt con la proloco con i parchi eccetera eccetera di sicuro diciamo io ecco vado a supportare o addirittura prendere in carico un infopoint che sempre di più stanno diventando pubblico privato il pubblico non ha più i soldi per finanziare l'infopoint lo dà il privato ed ha la concessione di fare la vendita ecco poi c'è il discorso dell'experience manager experience consultant progettista quindi fare i progetti fare progetti per terzi quindi per esempio per il mondo dell'ospitalità abbiamo detto che l'ospitalità l'abbiamo detto in un altro webinar deve deve spingere sugli ancillaries e mi sembra che l'Italia si faccia ancora molta fatica a capirlo alcuni l'hanno capito ma la maggior parte no quindi c'è spazio quindi vuol dire che c'è spazio perché i consulenti gli analisti mondiali lo dicono ma io ricordo di aver letto nel 2009 e si parlava di questo come acquisito a livello internazionale in Italia ancora oggi si fa fatica a parlarne cioè l'ospitalità non deve più vendere camere come è possibile ma certo che venderla le camere però deve alzare l'asticella e puntare su diventare hub di emozioni dirmi da me che io ti do il territorio io divento il punto il perno di accesso il portale il portale fisico online vuol dire non online ma il portale proprio offline vieni da me e tu accedi alle emozioni del territorio questo è il futuro dell'ospitalità in senso ampio l'extra alberghiero l'ha capito molto bene o meglio l'ha capito di più dell'alberghiero l'agriturismo lo sta capendo ecco vedo ampie spazi di miglioramento per cui chi si mette a fare il suo lavoro può andare ad aiutare gli alberghi e progettare per gli alberghi e fare il manager delle esperienze vendere il territorio adesso scusate che non mi ricordo cosa dire consulente di web marketing esperienziale sono tutti mestieri limitrofi capite cioè una volta che io so amministrare questi ansigli poi vanno comunicati allora o sono io che li comunico o collaboro con chi li comunica e che diventano l'attrazione per venire nel mio albergo non ti faccio venire perché la camera è bella perché uno dice sono belle tutto il mondo le camere di tanti alberghi ma ti vengui perché vivrai un'avventura memorabile ti intrigo con qualche cosa di particolare allora però diventa content marketing quindi lotte o è lui che fa questo o collabora con chi fa questo eccolo qua ecco e home base travel agent o consulente di viaggio incoming allora può rispondere alla domanda cosa possiamo fare a destinazione ma qui risponde alla domanda ma in realtà prepara l'offerta per cui chi già fa questo mestiere conosco già della gente che fa queste cose mette insieme cataloghi di esperienze sul territorio quindi se io sono un'ote metterò dall'esperienza più semplice allo story living quindi creo il catalogo allora posso collaborare con la quindi collaboro con la reception magari sono anche l'operatore della reception però non sono più solo quello che ti fa di alla camera ma ti consiglia ecco allora o lo faccio online il consulente di viaggio in coming è uno che è un'ote e che propone a chi vuole venire in Italia gli propone dei viaggi ok per cui parto da ote ti specializza a fare pacchetti di viaggio perché ti do la direzione tecnica ecco quindi può aprire per esempio una città di servizi e fare un DMC locale e vendere esperienze locali facendo leva sulle proprie conoscenze nazionali e internazionali ora è chiaro che qui il problema non è fare il prodotto perché quello se vi mettete avete un po' di tempo e voglia e amicizia tutti farete il prodotto il problema è la vendita ricordatevi una legge purtroppo dell'umanità qualsiasi prodotto che voi comprate di qualsiasi tipo indipendentemente dal turismo costa 100 60-70 è il costo della vendita ok cioè dobbiamo andare dietro del medioevo che veniva il contadino sì va bene adesso c'è chilometro zero per carità però qualsiasi prodotto è figlio di una filiera quindi la filiera si porta dietro la promozione il marketing i vari attori ecco allora perché dico questo perché se io voglio ho dei bellissimi prodotti devo avere l'amico in America che mi ricompra se non c'ho un amico in America che mi ricompra io faccio una fatica terribile a venderli oppure ho già una clientela acquisita perché magari sono 30 anni che faccio turismo oppure sono una guida e ho un mille clienti che hanno lavorato con me e gli scriverò guarda sei stato tanto contento quella volta che ti ho portato a Venezia adesso a Venezia ti faccio vivere un'esperienza memorabile e torno a Venezia per cui sono prodotti anche molto utili per il turista di ritorno cito Venezia perché il problema di Venezia è che non tornano più tornavano una volta essendo diventata proprio una trip advisor città trip advisor mordi e fuggi non tornano e questo è un altro problema per Venezia quindi avevo detto se impara questa competenza noi abbiamo appunto un corso che metteremo a settembre online per dargli quella competenza minima per fare la programmazione quindi un conto è progettare l'esperienza altro conto è programmare un viaggio capite che sono due cose diverse quindi Join Place che è un club di prodotto può anche aprire questa opportunità di franchising turistico ecco quindi Join Place chiudo con questo diventa un'opportunità per lotte o per i clienti del lotte che hanno appaltato a lotte un prodotto quindi qui l'idea è che si crea un brand nazionale che identifica soggetti eterogenei che però hanno come omogeneità quindi club di prodotto un prodotto story leading e oggi abbiamo tele agriturismi e devo dire che purtroppo appunto è partito il covid per cui ci ha placato subito ma abbiamo fatto già tanta promozione insieme insomma si lavora si collabora secondo questa filosofia dell'artese ecco allora concludo con questa slide che dice che con il progetto artese in Italia può far felice tutto il mondo perché la domanda del mondo chi vuole il turismo speranziale vuole appunto relazione e la relazione porta a un benessere chiamiamolo felicità è un parolone però è quella sensazione vedete queste persone questi due qui abbiamo la Imma che è il nostro hotel di Basilicata sulla sinistra con questi del New Jersey e quando mi ha mandato questa foto gli dico Imma ma come erano contenti alla fine dice lei dopo un quarto d'ora erano già casati io questa foto vedo esattamente il tipo di emozione che noi promettiamo è che al momento mi sembra che tranne una volta che uno non aveva capito che era una cosa un po' particolare perché l'aveva comprato la moglie la moglie ha comprato lo story living e il marito pensava che fosse una visita guidata l'unica volta che so di uno che non era stato proprio soddisfatto ma se no diventano matti perché è una cosa che piace tantissimo e crea quella distintività appunto quelle emozioni di cui abbiamo bisogno io avrei terminato adesso vediamo un attimo se c'è allora un tour operator può comunque dedicare un ramo della sua attività al turismo esperienziale allora diciamo che la domanda è talmente un po' vaga perché se io sono uno che fa outgoing dovrei fare turismo esperienziale a destinazione e sicuramente devo trovare chi me lo offre se ho il cliente esperienziale se invece voglio vendere l'Italia agli italiani dovrò fare qualche prodotto esperienziale e vedere come reagisce il mio cliente diciamo che questi sono prodotti che aiutano molto ad allarcare la stagionalità anche a mantenere il margine che comunque sono prodotti distintivi e per come sono fatti potrebbero anche essere diciamo erogati tutto l'anno non tutti ma una buona parte perché possono anche essere erogati pensiamo alla vigna hai fatto un'esperienza in vigna ma io voglio fare la vendemmia non farò mai un prodotto vendemmia perché il prodotto vendemmia dura un giorno io non posso fare un investimento di margine io gli dirò farò un'esperienza in vigna e la vigna c'è tutto l'anno per cui magari un giorno sarà anche la vendemmia un altro giorno mi insegneranno a tagliare le viti e un altro giorno mi insegneranno a imbottigliare il vino questo per essere proprio terra a terra un tour operator deve cercare di capire chi è la sua clientela chi vuole vendere qui è un po' l'uovo la gallina nasce prima il prodotto nasce prima il cliente ora la realtà che noi vediamo non è esplosa lo vedono tutti sette anni fa non lo vedeva quasi nessuno e noi eravamo proprio all'inizio eravamo i primi a parlare in Italia di questa roba ma ormai tutti vogliono in un modo più o meno spinto essere attivi fare qualche cosa partecipare sentirsi cittadini temporanei di un posto essere coinvolti dal titolare di quella cantina che mi racconta non solo come ha fatto il vino ma anche le fatiche della famiglia quindi si entra anche su una sfera più personale eccetera più intima ecco c'è modo di creare appunto un nuovo tipo di intrattenimento questo non so neanche più se è turismo sinceramente cioè intrattenere persone che accolgono persone si hanno detto che anche altri usano questo slogan bene usiamolo tutti quanti perché è proprio il significato più profondo quindi se sono italiani saranno italiani perché anche una scampagnata di domenica è turismo secondo voi o è tempo libero io faccio fatica a dire se è tempo libero o turismo di sicuro passiamo la domenica insieme passiamo un weekend insieme se poi vengono dagli Stati Uniti certamente lo chiamo turismo non c'è dubbio allora chiedo se ci sono domande mi sembra che al momento non c'è altro per cui se non ci sono altre domande direi che la nostra conversazione è terminata spero che per chi ha ascoltato sia stata utile si apre un mondo in 45 minuti vi ho tratteggiato tanti scenari spero che sia stato utile per capire le opportunità che si possono nascere nei prossimi giorni avremo altre sessioni in cui parleremo di progetti di destinazione di altre tipiche progettualità che coinvolgono certamente il territorio e appunto il concetto di turismo esperienziale io vi saluto e vi ringrazio tanto e vi auguro buona serata questo è l'ultimo intervento organizzato da Artes oggi ci vediamo domani mattina alle nove mi sembra che sono sempre io che dovrò intrattenervi allora un attimo solo che a memoria non mi ricordo allora domani mattina alle ore nove e trenta ci sono io e parlerò in modo un po' più diffuso sul disciplinare story leading experience oggi sono stato un po' veloce ecco domani sarò più specifico per cui se siete interessati a capire meglio vi faccio vedere anche qualche dettaglio in più arrivederci allora e buona serata a tutti voi